Pratt recita in diversi film. Qui è al Festival del Cinema di Cannes. I fumetti fanno parte del mondo della letteratura perché, sebbene per molte persone non siano che disegnini, io li considero letteratura disegnata. Esattamente come esiste una letteratura animata che chiamiamo cinema o la letteratura pura che è anche la scrittura. Ma c'è un altro genere di letteratura che per me ne è il culmine, e cioè la poesia. Ecco, quella... quella è veramente arte. Adatta una frase di Cocteau a proprio uso e consumo. Io scrivo i miei disegni e disegno la mia scrittura. Un giorno scopre una villa alle porte del villaggio di Granvaux che si affaccia sul lago di Ginevra. Nella sua casa c'erano circa 20.000 libri catalogati negli scaffali. Quello che lasciava sbalorditi era la sua cultura, non era affatto accademica, non aveva frequentato l'università. La sua era una cultura che si era costruito da solo, sulle proprie curiosità. È vero che con l'avanzare dell'età aveva riscoperto il piacere della solitudine. E gli piaceva passare molto tempo da solo, con i suoi libri, nel suo mondo. Spesso diceva che non era un uomo solo, bensì solitario. Gli piaceva disegnare all'alba, metteva musica a volume altissimo per svegliarmi. Di solito erano dischi meravigliosi come John Coltrane o Dizzy Gillespie o altri dischi jazz, che lui amava molto. Ma quando vedeva che non mi alzavo era capace di mettere un disco di cornamuse scozzesi. A quel punto balzavo dal letto per spegnere lo stereo, perché era musica davvero difficile da sopportare appena sveglia.